Siamo con Massimo Minazzoli, ti vediamo abbronzato, quindi vuol dire che la giornata a Ondaland ieri, malgrado le aspettative mattutine che non erano proprio soleggiate, è andata bene? Sì, è andata bene, non è stata una partenza molto buona, il tempo era un po' incerto, poi si è aperto e ci siamo divertiti con i ragazzi. Ora ci possiamo un po' rilassare, però durante quest'anno è stato un anno molto impegnativo, molto intenso e tempi liberi ce ne sono stati molto pochi. Da Ondaland, dai corsi d'inglese, con l'aiuto delle partite dei mondiali, insomma quest'anno i bambini non si annoiano, volge al termine la prima settimana che è stata coinvolgente per i nostri piccoli azzurri. Sì, abbiamo anche adesso i mondiali che ci danno una mano a completare un po' il programma, sono molto impegnati i ragazzi, sta andando bene, c'è sempre molta partecipazione, questo ci fa piacere, soprattutto durante i pernottamenti abbiamo molte richieste, molti ragazzi che chiedono di essere riscritti, ci fa piacere. E' nutrito anche il gruppo dei tutor, dei ragazzi e degli esperti che assistono questi bambini, tu quest'anno fai un po' da punto di riferimento, dall'alto possiamo dire dell'esperienza che hai maturato in questi mesi qui a Novarello come tutor non solamente del Football City Camp ma anche di alcuni ragazzi del settore giovanile. Sì, quest'anno abbiamo un team di 12 persone, ragazzi molto disponibili che ci danno una mano, ci sono tirocinanti, ci sono tecnici già fermati, però tutti si danno da fare per cercare di organizzare al meglio questa vacanza dei piccoli campioni che crescono. Poi Novarello comunque è una location bellissima, quindi si differenzia per questo, penso sia unica nel suo genere, quindi ci dà una mano grande in questo. Assolutamente, poi guardandola dal lato dei bambini, al primo posto c'è naturalmente il divertimento, la possibilità di giocare a calcio su campi che sono pressoché perfetti. Dal lato dei tutor però c'è l'importanza di non lasciare nulla al caso, qui viene tenuto sotto controllo e viene considerato ogni singolo dettaglio. Sì, assolutamente, diciamo che il divertimento è alla base di tutto, però c'è molta attenzione perché ci sono più di 100 bambini con tante problematiche, tanti casi da tenere sotto controllo e niente deve essere lasciato al caso. Quindi l'attenzione è sempre la cosa primaria, il divertimento sì, ma sempre nella massima sicurezza e rispetto di ogni cosa perché veramente l'attenzione deve essere molto molto alta. Poi comunque andiamo incontro alla stagione calda e quindi bisogna avere molta attenzione anche per quanto riguarda le attività sportive. Però tutto si sta svolgendo al meglio, faccio comunque complimenti ai nostri tecnici che sono molto preparati e molto attenti. Dicevamo dei mondiali dall'azzurro all'azzurro, per Italia e Costa Rica avete in programma qualcosa di particolare? Certo, domani ci troviamo alle 6, tutti nella sala tv a Tifare Italia, canteremo l'inno tutti insieme, abbracciati e speriamo di portare a casa una vittoria. Certo, domani ci troviamo tutti i nostri amici.